E la Croce Rossa italiana è a fianco dei cittadini ma in particolare in questo momento storico in cui stiamo affrontando delle vere e proprie ondate di calore africano e a fianco degli anziani più fragili e vulnerabili attraverso un numero di pubblica utilità 1520. Ne parliamo questa mattina con Massimo Lapietra responsabile della centrale operativa Croce Rossa in formazione telecompagna con il numero 1520. Buongiorno Lapietra e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora ci spieghi questo numero 1520 perché è stato creato ma soprattutto qual è il servizio che fornisce ai cittadini e in particolare agli anziani. Il numero 1520 è un numero di pubblica utilità che è attivo ormai da un anno ed è attivo tutto l'anno, 365 giorni l'anno in H24. In realtà è un numero rivolto a tutti i cittadini e anche alle istituzioni che hanno necessità di avere dei servizi che la Croce Rossa è in grado di fare su tutto il territorio nazionale. In questo periodo particolare con questa andata di calore noi ci stiamo concentrando e stiamo ricevendo almeno un 20-25% di chiamate in più da parte di persone anziane che hanno magari bisogno di alcuni servizi banalmente perché giustamente non escono di casa però hanno bisogno del farmaco piuttosto che durante queste chiamate noi riusciamo a intercettare anche un po' di solitudine e quindi i nostri operatori sono preparati per offrire un servizio di telecompagnia cosa che facciamo annualmente con degli utenti ormai che sono nostre, delle persone con cui ormai sentiamo tutto l'anno ma in questo periodo abbiamo incrementato il numero di persone che si rivolgono a noi e con cui noi tratteniamo questo servizio di telecompagnia quindi significa almeno una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni un nostro operatore chiama la persona anziana, una persona che si sente sola e offre questo tipo di servizio. Non solo, anche i nostri comitati, i nostri volontari e le nostre volontari sul territorio possono anche eventualmente, fanno loro una valutazione, andare a casa delle persone anche per dargli un supporto di qualsiasi tipo Quindi appunto non solo l'anziano o chi ha necessità può chiamare il 15-20 però appunto come lei diceva in maniera quasi ciclica ogni 10 giorni, ogni settimana siete voi stessi, sono gli operatori della Croce Rossa italiana che si informano sulle condizioni dell'anziano Sì, assolutamente sì, noi abbiamo un numero di chiamate in entrata che più o meno gira intorno alle 300 chiamate al giorno ma ne abbiamo anche diverse, almeno un centinaio in uscita che sono sia per le persone anziane, persone che quantomeno ci hanno manifestato una solitudine e non solo le anziane, però le persone anche un po' più fragili e anche normalmente un servizio con i nostri volontari sul territorio Bene, stiamo vedendo anche delle immagini grazie all'ufficio stampa della Croce Rossa italiana che mostrano proprio i volontari ma non solo che appunto sono a servizio in questo momento particolare, lo abbiamo detto degli anziani più fragili, più vulnerabili a causa anche e soprattutto di queste ondate di calore Allora, ripetiamo ancora una volta il numero La cosa più semplice è comporre il 1520 sul proprio telefono cellulare o telefono di casa quindi 1520 risponderà una voce che vi assicura che state parlando con la Croce Rossa italiana e dopo un periodo d'attesa brevissimo perché è normale che sia così il nostro operatore risponderà, è in grado di ascoltare i bisogni, le necessità e capire come fare per aiutare queste persone quindi il nostro numero di pubblica utilità è 1520 1520 Massimo, approfitto della sua presenza per chiederle Lei prima mi diceva che a seconda delle necessità molte volte gli operatori della Croce Rossa italiana si recano a casa dell'anziano però diciamo in qualche modo non è che bisogna stare attenti gli anziani non devono, come dire, aprire le porte perché potrebbe anche esserci qualcuno che si spacci per volontario della Croce Rossa italiana approfittiamo anche per dare questa indicazione a coloro che ci stanno seguendo No, assolutamente corretta la sua osservazione e grazie per questa osservazione appunto no, i nostri volontari prima di recarsi a casa delle persone le chiamano quindi noi riceviamo la richiesta iniziale poi passiamo tutti i contatti ai nostri volontari sul territorio i nostri volontari chiamano le persone quindi gli dicono se vogliono che possono recarsi a casa delle persone fissano con loro un appuntamento in ogni caso sono sempre in divisa hanno sempre un tesserino di riconoscimento siamo in uniforme, uniforme della Croce Rossa quindi su questo e se qualcuno ha qualche dubbio può benissimo chiederlo di nuovo al 15-20 dicendo mi ha chiamato il volontario X perché vuole venire a casa e noi gli possiamo confermare se è vero oppure non è vero quindi noi siamo a disposizione anche su questo perfetto, la prudenza non è mai troppa soprattutto per determinate categorie di persone grazie Massimo Lapietra per la sua disponibilità grazie alla Croce Rossa italiana che sentiamo vicina e che puntualmente ci aiuta a dare queste indicazioni e siamo felici di poter fare da cassa di risonanza quindi a disposizione sempre per la Croce Rossa italiana grazie ancora, buon lavoro a lei e a tutti i volontari grazie, grazie a voi